David Julius e Ardem Pataputian sono i vincitori del Nobel per la medicina 2021. Il premio è stato assegnato ai due scienziati, uno statunitense e l'altro libanese, per la scoperta dei recettori che sono alla base del tratto e dei meccanismi che regolano la percezione del freddo e del caldo. La motivazione del premio, secondo la giuria di Stoccolma, la capacità di percepire il caldo, il freddo e il tatto è essenziale per la sopravvivenza che sostiene la nostra interazione con il mondo che ci circonda. Nella nostra vita quotidiana diamo per scontato queste sensazioni, ma come vengono avviati gli impulsi nervosi in modo che la temperatura e la pressione possano essere percepite? Questa domanda è stata risolta dai premi Nobel di quest'anno. Gli studi rivoluzionari hanno aperto la strada ad intense attività di ricerca che hanno portato un rapido aumento della comprensione di come il nostro sistema nervoso risponda al calore, al freddo e agli stimoli meccanici. Le loro scoperte costituiscono una svolta cruciale per mettere a punto cure per diverse malattie, tra cui il dolore cronico.